Albano e Romina, avete mai visto il marito della figlia Cristel? Chi è e come si sono conosciuti? Albano e Romina, avete mai visto il marito della figlia Cristel? Chi è e come si sono conosciuti? Ecco cosa sappiamo del ricco imprenditore Albano e Romina Power sono senza alcun dubbio una delle cocchie più amate dal pubblico italiano La loro storia d'amore ha appassionato milioni di persone, ma è terminata dopo 30 anni Oggi il cantante di Cellino San Marco vive insieme alla sua storica compagna Loredana Leciso, da cui ha avuto due figli, Yasmine e Albano J.R. Ilenia, Iari, Cristel e Romina J.R. sono, invece, i quattro figli che Albano ha avuto da Romina Cristel, come i genitori, lavora nello spettacolo, ed è una conduttrice, stilista e cantautrice ed è sposata dal 2016 con Davor Lutzik, da cui ha avuto due figli Ma avete mai visto suo marito? Ecco cosa sappiamo di lui e di come si sono conosciuti Albano e Romina, avete mai visto il marito della figlia Cristel? È un ricco imprenditore, ecco come si sono conosciuti Cristel Carisi è la terza figlia di Albano e Romina Power e oggi ha 35 anni Bellissima, elegante e soprattutto talentuosa, lavora come conduttrice, stilista e cantautrice, ma è anche moglie e mamma Insieme a suo marito Davor Lutzik, infatti, ha costruito una splendida famiglia e ora ha due figli, che è, nato nel 2018, e Cassia Ilenia, nata nel 2019 Ma avete mai visto il marito di Cristel? È un uomo davvero affascinante, ma soprattutto estremamente ricco Croato di origini cilene, Davor è infatti un noto imprenditore ed è considerato addirittura il secondo uomo più ricco della Croazia, con un patrimonio che si aggirerebbe intorno al 170 milioni di euro Non è tutto però, perché pare che la sua famiglia sia tra le più ricche e antiche del Sud America e che abbia un patrimonio stimato intorno ai 16 miliardi di dollari, grazie alle attività legate a Redorte e Alberti di Lusso A quanto pare, Davor e Cristel si sono conoscuti nel 2012, quattro anni prima di sposarsi, tramite amici in comune Lui è molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo e il loro amore è cresciuto nel tempo, nonostante la distanza dovuta ai diversi impegni lavorativi, fino a portarli all'altare Cristel pubblica spesso scappi con suo marito sul suo profilo Instagram e la coppia sembra davvero felice ed affiatata Voi che dite? Vi piacciono insieme Voi che dite? Vi piacciono insieme Voi che dite? Vi piacciono insieme